Grazie a tutti. Voglio parlare di come si esce dalla crisi e non delle sciocchezze, delle promesse false come quelle che in questi giorni va facendo Berlusconi in un tentativo disperato di recuperare per farci dimenticare tutti i disastri che ha prodotto in questo Paese. Perché dovrebbero scegliere il Partito Democratico? Perché è l'unica proposta di governo, l'unico progetto che dà un futuro al Paese. Tutti gli altri sono impegnati a fare una campagna elettorale tesa ad impedire che il PD possa vincere e a creare un clima di ingovernabilità per poter poi avere nell'ingovernabilità potere contrattuale. Noi siamo l'unica coalizione, l'unico partito che propone un progetto positivo per il Paese che ridà speranza all'Italia. Se doveste vincere, da dove ripartire, quale sarebbe l'iniziativa più importante da fare subito? Lavoro, lavoro, lavoro. Tutte le politiche pubbliche dal primo atto di governo devono essere concentrate sul tema del lavoro. Su questo noi abbiamo delle proposte precise, utilizzare la leva fiscale per alleggerire il peso fiscale sull'impresa e sul lavoro e spostarlo alla rendita. Un piano straordinario per l'occupazione giovanile finanziata con i fondi europei in sintonia con le autonomie e con un progetto europeo già elaborato dalla Commissione. Se si guarda attorno, cosa vede? Guardo una grande attenzione alla proposta del PD, guardo ancora tanta gente che non ha deciso come votare. In una campagna elettorale d'inverno sconta anche una difficoltà privilegiando i media, privilegiando la televisione, ma noi dobbiamo insistere in un colloquio e in un ascolto delle persone. Sono convinto che alla fine la maggioranza degli italiani si convinceranno a sostenere il centro-sinistra e il Partito Democratico. È una campagna elettorale porta a porta, strada per strada, per incontrare i cittadini perché c'è l'esigenza forte di confrontarsi, di aprire un dialogo, di avere un confronto aperto sui temi, sulle questioni, ma soprattutto condividere tutto quello che è il pensiero politico delle persone di ogni singola comunità di questo Salento. Insomma, in queste 100 città vogliamo stabilire un nuovo rapporto, ritrovando anche una sintonia fra la politica e i cittadini e soprattutto evidenziando quello che è il progetto alternativo in questo Paese per un'Italia nuova, un'Italia che vuole cambiare, per l'Italia giusta, dice Bersani. Proprio per questo vogliamo cercare di incontrare tante persone che vogliono con noi condividere questo percorso. State vedendo anche tanta delusione e confusione? Ah, delusione e confusione. Siamo in una crisi socio-economica importante, mai vista. Stiamo anche di fronte ad una disaffezione della politica, ad una crisi della politica. E non per colpa del Partito Democratico, per colpa di chi pensa che la politica sia solo ed esclusivamente l'interesse specifico, non quello collettivo. E quindi noi abbiamo una responsabilità che è personale, individuale e collettiva, ma soprattutto abbiamo un'idea che bisogna fare della politica e soprattutto raggiungere degli obiettivi all'interno di una comuna responsabilità con i cittadini. Questo è compito del Partito Democratico, l'unico e vero partito che esiste oggi in Italia e che vuole cercare di valorizzare quanto più è possibile anche un Paese che ha bisogno di essere ricostruito. Grazie.